La capacità di utilizzare bene i fondi europei è determinante, l'ambiente e la sensibilità verso di esso è sempre un ottimo investimento anche per migliorare la qualità della vita. Sono le parole del governatore Francesco Acquaroli, che ha preso parte alla conferenza Sampa dedicata al progetto pilota Mare Circolare, una iniziativa realizzata nell'ambito del progetto europeo Blue Crowdfunding, di cui la regione partner è Svem, soggetto attuatore. L'obiettivo è quello di rimuovere gli elementi inquinanti, la plastica in primis, favorendo la salubrità marina funzionale alla salvaguardia della filiera ittica e della catena alimentare. Si partirà proprio da Fano, sabato e domenica, per poi spostarsi a Senigallia il 19 e 20 marzo, a Civitanova Marchi il 2 e 3 aprile ed infine sulla riviera del Cognero il 23 e 24 aprile. La raccolta fondi civica, avviata il 27 settembre scorso e conclusasi dopo 60 giorni, ha raggiunto l'importante risultato di oltre 41 mila euro cifra, che ora verrà utilizzata per le azioni di bonifica e di pulizia dei mari in quei porti e fasce costiere a ridosso dei centri urbani di interesse turistico. Un'eccellente iniziativa che soprattutto va a scuotere quelle che sono le coscienze. È una frase fatta, quella di siamo tutti quanti sulla stessa barca. Questo è un mondo che deve essere tutelato, è un problema ambientale che ormai sta scuotendo diverse coscienze. Noi come istituzione siamo impegnati da tempo, anche con delle iniziative della Guardia Costiera. Questa iniziativa invece mira a sensibilizzare, ad educare tutta la gente a cambiare un attimo degli atteggiamenti, atteggiamenti che vanno alla tutela del nostro mondo. Presenta ad Ancona anche il vice sindaco Cristian Fanisi che ha portato i saluti della città. Per Fanno il progetto è stato seguito dall'assessore Brunori che ci ha illustrato i dettagli. La pulizia verrà fatta nello specchio d'acqua di Marina dei Cesari e della Darsena, dove ci sono i pescherecci. Il 12 e 13 marzo, con il supporto dell'imbarcazione Pelican, verrà eseguito un intervento sia in superficie sia su fondali, grazie ai sommozzatori che provvederanno a rimuovere materiali solidi e liquidi, come le sostanze oleose. Per domenica mattina, inoltre, l'amministrazione comunale ha chiamato raccolta alle associazioni ambientaliste che provvederanno a togliere i vari oggetti di plastica presenti sulle spiagge di Sassonia. L'appuntamento è per le 9.30 all'Anfiteatro Rastat. Quindi c'è una grande soddisfazione da parte del gruppo. Abbiamo messo su una squadra veramente fortissima, tra noi sommozzatori, volontari e la Politecnica delle Marche e il CNR. Quindi siamo all'inizio di qualcosa che diventerà veramente importante. Voglio aggiungere una cosa, noi abbiamo fatto incontri sia con i sindaci interessati e sia con le capitanerie di Porto. Renderemo probabilmente, questo è un inizio di qualcosa di permanente in quei paesi, in quei territori, nel mare, per poter renderlo sempre più usufruibile e soprattutto per poter renderlo meno inquinato.